Ha rivoluzionato la psichiatria infantile e ha dato nuovi spazi di vita e di crescita ai bambini, che aveva in cura una rivoluzione pacifica riconosciuta dal Governo nazionale, tanto da divenire l'asse portante della nuova legislazione italiana. La Fondazione Zetema ricorda il dottore Eustacchio, Nino Loperfido, medico originario di Matera e assessore alla salute nel comune di Bologna dal 70 all'80. La Fondazione Zetema ricorda il dottore Eustacchio, Nino Loperfido, medico originario di Matera e assessore alla salute nel comune di Bologna dal 1970 al 1980. A celebrare lo psichiatra materano sono stati familiari e colleghi. La vita professionale e privata del medico dei bambini è stata poi raccontata anche attraverso il documentario a cura del figlio Giuliano. È un modello di riferimento che fa onore a Matera e all'Italia. L'altro elemento necessario per poter ricordare il buon Nino Loperfido è che questa terra materana non è un deserto dove non fioriscono gli alberi. C'è una situazione di stanca, di sfiducia, di rassegnazione. Noi abbiamo anche prodotto personaggi illustri del nostro tempo e non del tempo lontano. E questa è un'altra carica di memoria che significa carica di confidenza col territorio e di responsabilizzazione dei cittadini verso la propria città e il proprio territorio. Il terzo punto importante è che c'è un pullulare di iniziative per ricordare gli illustri lucani insigni viventi. Ma gli insigni morti dove sono? E quindi siccome io sono un salmone e vado controcorrente, voglio ricordare coloro che non esistono più, che si stanno spegnendo nella memoria, per dire che anche i morti sono stati illustri e soprattutto di grande dignità, di grande prestigio nazionale e internazionale. Loperfido è un modello anche per noi che abbiamo una responsabilità politica e non stupisce che proprio a lui venga attribuita la frase «Se un servizio è a misura di bambino e a misura di tutta la città», ha commentato l'assessore regionale Cosimo Latronico, portatore di conoscenze scientifiche e di valori a cui ancorava convintamente il suo agire quotidiano da amministratore del comune di Bologna, con la chiusura dei manicomi e delle scuole speciali, oltre che con il potenziamento dei servizi sociali presenti sul territorio, è stato capace di realizzare il suo progetto che coincideva con il sogno e i bisogni umani di migliaia di ragazzi.